Allora, buongiorno a tutti ragazzi, partiamo dal presupposto che a me dispiace per quello che è successo a quei ragazzi che sono stati carcerati, sono stati arrestati, io ho fatto degli errori in passato, ma quando è successo quel fatto io ero già il nuovo Gallagher, già stavo facendo la mia musica e il mio percorso. Smettetela, chiunque sia di voi, a dire che io so balordo, che io so infame, perché Gallagherino non è infame, perché io non mi sono svegliato la mattina e non sono andato a denunciare a nessuno. Se fate un cazzo di reato e vi riprendete col telefono, vi vengono le guardie dentro casa, vi autobevete, è un video che è finito, primo in tendenza su tutta Europa, da me che cazzo volete. Io non mi sono svegliato la mattina e vi sono andato a denunciare. Se quelli facevano quello l'anno fa e non pubblicavano niente, a nessuno succedeva un cazzo. Quindi smettetela da colpa a me, che io so infame, che dè qua, perché so tutte cazzate. Ok? Chi semina purtroppo raccoglie nella vita, io so un bravo piscale. Non mi fotte un cazzo di stare in mezzo a queste cose, faccio musica. Se vi fate un video mentre fate un reato, vi bevono. Grazie. Grazie. Grazie.